Ciao ragazzi, sono Gaetano, oggi sono qui per parlarvi un po' di finish, in particolar modo con American Crew Light All Tech Surlotion, eccolo qui. Che cos'è? Non è altro che una lozione con un fissaggio e brillantezza leggera per un look estremamente naturale, rende i capelli morbidi e corposi. Come lo si applica? In che modo? Lo si applica su capelli tamponati oppure per avere un effetto un po' più fissativo da capelli asciutti. Con questo io vi ringrazio e vi saluto. Ciao!